...andare tutto nella seconda partita... ...sciuolo Diego, sciuolo! hai capito la volta? si vede, vogliamo tenerlo per la seconda partita saldiato? che compo si è? il salto Lazzaro, quando vuoi eh ablamelo ablamelo si andiamo ora abbiamo che animare il cuchillo tranquillito si pressione, vamo prendi il tempo bene vai, vai, vai giù, giù, giù bravi buono il cistuto, il cistuto che va dentro? non era vicino a te no, no, no adesso... 1-1 limbo era molto molto pesato No, 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 no. No, 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 no.